E' arrivata questa chiamata al 118 e qual era la richiesta di soccorso? Una rottura delle acque come ormai facciamo praticamente quasi tutti i giorni. Ci aspettavamo il classico trasporto in ospedale pensando che dovesse nascere. Sono le 8 del mattino quando arriva una chiamata alla centrale operativa del 118, un parto imminente. Sul posto arrivano i soccorritori della misericordia di Arezzo ma non avrebbero mai pensato come sarebbe andata a finire. Questa chiamata? In città. Quindi comunque dici vabbè ci arrivo in ospedale? Sì sì ci sarebbe arrivati bene. E invece? E invece quando siamo arrivati lì la collega che è entrata per prima in casa mi ha detto c'è ci siamo quindi si fa qua. E abbiamo preso tutto il materiale che ci serviva e abbiamo proceduto a fare tutte le nostre manovre che i nostri istruttori ci insegnano tutti i giorni. Il bimbo aveva davvero fretta di nascere peraltro un mese prima. Sì finiva il tempo verso la metà di aprile e è voluto nascere prima. Andrea e Luisa non sono infermieri ma sono due soccorritori di livello avanzato della misericordia di Arezzo. Hanno così chiamato la centrale 118 e coordinato con loro l'intervento. Il lieto evento è stato portato a termine felicemente assieme ai sanitari giunti sul posto con un'automedica. Prima di iniziare il tutto abbiamo chiamato il 118 avvisando insomma del fatto e ci hanno prontamente inviato l'automedica. All'arrivo dell'automedica il bambino era già ancora la mamma e tutto a posto e lì siamo proceduti con l'accesso al pronto soccorso e il trasporto in codice rosso. Ad accogliere mamma e nascituro un ginecologo e un pediatra già avvisati dai sanitari. Il 14 marzo sarà una data che zia Luisa e zio Andrea di sicuro non dimenticheranno. La mamma che cosa vi ha detto quando è nato? All'inizio c'era preoccupazione anche da parte sua perché comunque un parto in casa, poi dopo si è tranquillizzata, quando ha visto il bambino che comunque reagiva era molto felice della cosa.